Eccoci ragazzi, questo è un video molto importante per quanto riguarda poi la quinta a liceo, perché tra tutte le formule che poi ricorderete, che dovrete ricordare, sicuramente questa va ricordata, perché, faccio un piccolo spoiler, quando studieremo ad esempio i condensatori, e quindi i flussi di campi elettrici all'interno di un condensatore, quindi tutta roba di quinta, bene, noi ne abbiamo ancora fatto i condensatori, ma vi dico già che all'interno di un condensatore il campo elettrico è uniforme, quindi questo è praticamente un esercizio, più che una dimostrazione, è un modo per farvi vedere come si fa a creare una differenza di potenziale quando il campo elettrico è uniforme, è il caso più facile, no? Il campo elettrico è uniforme, quindi significa che è uguale in tutti i punti dello spazio, non cambia nel tempo, quindi perfetto. E io ho già scritto la soluzione, nel senso che come ho fatto anche nel caso della carica puntiforme, ho già scritto la mia soluzione e la vado a leggere. La differenza di potenziale tra il punto A e il punto B è meno, e adesso poi su questo meno ci staremo un attimo, il modulo del campo elettrico, che è tanto uniforme, quindi questo è un numero, per il modulo di AB, che è il segmento AB, per il coseno dell'angolo, che c'è ovviamente, tra E e AB. Quindi è questo qua. Visto che il campo elettrico è questo, il mio angolo teta è esattamente quest'angolo qui. Perfetto. Ora, la domanda è, ma io come faccio ad andare sempre dalla definizione generale di differenza di potenziale a quella particolare per il campo elettrico uniforme? Abbiamo già visto, ad esempio, che partendo da questa definizione, per la carica puntiforme, veniva fuori tutt'altra formula, KQ su R, no? Com'è possibile che invece qui venga così? Vero ragazzi, sono le proprietà degli integrali. Nel senso che se io sono interessato a sapere quanto vale VA meno VB in questo caso, qui scrivo sempre integrale da AB di modulo DE DL per il coseno dell'angolo. Però, a differenza di una carica puntiforme dove il campo col cavolo, che in funzione della distanza, di una distanza, diciamo, radiale, è costante. Qui il campo è costante, è uniforme, quindi utilizzo subito il fatto che sia uniforme. se è uniforme ci sono due quantità costanti, perché c'è E, ma visto che io come linea prendo ovviamente, sapete che io da, per calcolare la differenza tra di potenziale 3B, potrei prendere qualsiasi linea, no? Potrei prendere anche questa se fossi matto, o anche questa se fosse ancora più matto. Invece, guarda caso, prendo proprio la linea più facile che fa al caso mio. Poi in realtà c'è ancora una linea ancora più facile, però lo dico alla fine per gli esperti. Comunque, lui è costante, ma ragazzi, visto che il campo è costante anche in direzione verso e AB è il nostro segmentino, c'è qualcos'altro che rimane costante. Perché se io AB lo spezzo in tutti i miei DL, ok, e disegno il campo in ogni punto, rimane costante anche l'inclinazione che c'è tra il DL e il mio vettorino. è sempre il mio angolo teta, cioè tra ogni DL e ogni campo elettrico c'è sempre teta. Quindi, non solo esce il campo elettrico perché è costante, ma esce anche cos teta. Proprio perché ho preso una bella linea dritta come percorso e il campo è uniforme. Quindi, guardate cosa viene, e l'esercizio è quasi finito. Modulo di E, coseno di teta, e mi rimane l'integrale da A a B di DL. Ragazzi, che cos'è questo? Questa, se questo è il punto A e questo è il punto B, io ho diviso il segmento AB in tantissimi pezzettini che potrebbero essere del TL1, del TL2, del TL3, e adesso li sto tutti risommando insieme. E cosa fa delta L1 più delta L2 più delta L3 più delta L4? Mi vanno a riformare la lunghezza intera del segmento. E quindi io questo integrale lo so fare perché questa quantità qui, che cos'è? È la lunghezza del segmento AB. quindi risulta modulo di E per la lunghezza, il modulo del mio vettore AB che va da AB per il coseno di teta. Vediamo che, vedete che ci siamo quasi? Ora, perché c'è quel maledetto meno che poi nei libri c'è sempre quel meno che non si capisce? Beh ragazzi, perché la differenza di potenziale è definita come il valore finale meno il valore iniziale. Nel senso che se tu vai da A a B, allora delta V è VB meno VA. Purtroppo questa cosa è fastidiosa, ma questo è il motivo che c'è il meno. Nel senso che io facendo così ho detto che questa cosa vale VA meno VB. ma quando si usa poi la caduta di potenziale o la, diciamo, la differenza di potenziale, non è tanto interessante sapere quanto vale VA meno VB ma quanto vale delta V. Quindi se io vado da A a B, delta V che è definito come VB meno VA è ovviamente il negativo di questa quantità e quindi viene meno modulo di E AB cos theta che tra l'altro ci sta dicendo una cosa che se io questo meno significa proprio che se io mi muovo ok? Lungo la linea di campo elettrico il potenziale diminuisce. Questo è il significato. E prima di fare un esercizio affinché so che diventa più caro adesso un esercizio poi come davvero si lavora ultima cosa come sono fatte qui le superfici equipotenziali cioè dove sono i punti che sono allo stesso potenziale? Allora chi già ha visto gli altri video forse sa già rispondere anche prima di questo video perché i punti allo stesso potenziale sono ovviamente ad esempio sempre su una sezione bidimensionale a ma anche questo punto qua che ad esempio chiamo a primo questo punto qui che chiamo a secondo e questo punto qui che chiamo a terzo ora perché? Beh per tanti motivi il primo è che tutti i punti che stanno su una superficie equipotenziale hanno lo stesso potenziale e questo è una è una tautologia ma le superfici equipotenziali cos'hanno di bello? Sono perpendicolari al campo elettrico quindi qual è la quantità geometrica tridimensionale perpendicolare a un vettore? La risposta è un piano quindi voi dovete immaginare un piano che taglia o meglio che è tagliato perpendicolarmente da questo vettore bene tutti i punti che stanno su questo piano hanno tutti lo stesso potenziale ad esempio è un esempio 100 volt cosa succede? è che quanti piani ci sono ovviamente infiniti ma ci sarà quindi anche un altro piano qui e io so dire qualcosa sul potenziale di questo piano perché vedete adesso su questo piano i punti hanno tutti lo stesso potenziale so già che il potenziale sarà più basso perché se io seguo le linee di campo il potenziale si abbassa quindi ad esempio 50 volt e questo cosa si dice quindi? che le superfici più potenziali sono sempre perpendicolari al campo elettrico che sono strutture tridimensionali sempre quindi mentre nelle cariche puntiformi le superfici con i potenziali erano delle sfere con un campo di dipolo le superfici diventavano degli ovoidi delle strutture ovoidali elissoidali strane mentre con un campo elettrico uniforme diventano dei piani quindi delle superfici aperte altra cosa tutti i punti che stanno su questo piano quindi in due dimensioni su queste linee hanno tutti lo stesso potenziale quindi ascoltate bene questa cosa perché è molto importante se io vi chiederò qual è la differenza di potenziale dal punto A ad esempio al punto C voi potete usare la definizione che vi ho dato ma in realtà chiedersi qual è la caduta di potenziale da A a C è come chiedersi la caduta di potenziale dal punto A3C perché tanto qui il potenziale è lo stesso e sarà molto più facile quindi suggerimento se avete sostanzialmente il vettore A C perché io vi chiedo magari V C meno V A il delta V sarà molto più bello scomporre A C in questo modo vettorialmente come questo contributo e questo contributo perché tanto il delta V che si va a creare tra A e C è lo stesso delta V che si va a creare tra A3 e C perché ovviamente lungo un contributo equipotenziale diciamo il contributo equipotenziale la caduta di potenziale fa 0 ok quindi è come se noi avessimo proiettato comunque l'unico contributo che il segmento dà è il contributo parallelo al campo elettrico perché quello perpendicolare fa parte di una superficie equipotenziale quindi non dà contributo al cambiamento di potenziale di potenziale